C'è qualcuno che sta già parlando di attentati o comunque situazioni di questo genere, stanno circolando dei video da questo punto di vista e io in linea di massima non mi sento in questa fase di escluderlo, anzi diciamo che è un'ipotesi che sto esplorando io stesso perché la dinamica del crollo potrebbe essere compatibile con un certo tipo di ragionamento. Il crollo del ponte Morandi a Genova potrebbe essere stato provocato, un'ipotesi sconvolgente che l'ingegnere padovano Enzo Siviero non esclude. Siviero non è una persona qualsiasi, c'è chi lo chiama Bridgman, l'uomo del ponte. Nel suo campo è un'autorità, per 25 anni professore ordinario all'Uav di Venezia e ora rettore dell'Università Telematica e Campus. Ingegnere, autore di centinaia di pubblicazioni, architetto, costruttore di ponti, una quarantina solo in Veneto e soprattutto in questo frangente consulente per Spea Engineering, società del settore infrastrutture del gruppo Atlantia, per il crollo del ponte Morandi di Genova, 43 morti. La domanda è, com'è possibile che un ponte di tale portata sia potuto crollare in pochi secondi? Un ponte molto pulito, molto chiaro, ma diciamo che ha degli elementi mancando i quali non tiene più. Si sono state messe delle microcariche di un certo tipo, in microsecondi ti fa saltare un pezzo e viene giù. Chi potrebbe aver fatto una cosa del genere per quale motivo? Ma guardi, il gruppo Autostrade è diventato praticamente il leader mondiale delle concessioni autostradali. Ci sono altri soggetti che potrebbero essere interessati a prendere in mano le situazioni. Non ci dimentichiamo che la fine che ha fatto Mattei... Questa ipotesi che percentuale gli dà? Guardi, io in questo momento sono portato a dare una percentuale superiore al 50%. Diciamo che questa, in questo momento, è l'ipotesi che tecnicamente potrebbe giustificare le modalità di crollo. Sarà poi naturalmente agli inquirenti valutare se e come, però certamente c'è qualcosa che induce a pensare che sia sfuggito. Se uno va a vedere ci sono dei lampi, c'è un crollo verticale di un certo tipo, c'è una rotazione. Insomma, ci sono molti elementi che sono compatibili con questa ipotesi.